Ora vediamo le proprietà della forza peso, la forza di gravità con cui la Terra attira gli oggetti verso il basso. Si dimostra che la forza peso, Fp, si calcola con questa formula, massa per campo di gravità. Il campo di gravità sulla superficie della Terra vale circa 9,8 N al chilo, o più precisamente 9,81 N al chilo, ho messo l'uno fra parentesi perché io spesso mi limito a 9,8. Che significa questo valore? Che se io ho un oggetto di massa 1 kg, la Terra gli fa una forza di gravità di 9,8 N. Se invece l'oggetto ha una massa di 2 kg, la forza di gravità fa una forza doppia, cioè 2 per 9,8 N. In altre parole, 9,8 N è la forza di gravità su ogni kg che costituisce il corpo. Per esempio, io ho una massa di 80 kg, su ciascuno dei kg del mio corpo la Terra fa una forza di gravità di 9,8 N. Perciò, se io voglio sapere quant'è la forza di gravità complessiva su tutto il mio corpo, devo moltiplicare questi 9,8 N per i kg del mio corpo. Ecco perché devo fare per 80, in questo esempio, per 50. Ho immaginato una persona di 50 kg, quindi 50 kg per 9,8 N ogni chilo. E così si ottiene la forza peso, 490 N. Quindi, riassumendo, il campo di gravità rappresenta quanti N di forza fa la Terra su ogni kg di un oggetto. Per sapere la forza totale, bisogna moltiplicare per quanti kg sono. Il valore 9,8 N al chilo vale in prossimità della superficie terrestre. Se ci solleviamo molto, il campo di gravità terrestre diminuisce. 9,7, 9,6, molto lontano, diventa anche 4, 3, 2, 1 N al chilo. E quindi, questo valore è destinato a diminuire. Sulla superficie della Terra, o a breve distanza, quindi fino a piccole altezze, diciamo qualche centinaio di metri, forse anche qualche chilometro, questo valore continua ad essere adatto. Quindi, 9,8 N al chilo. Se andiamo sulla superficie di un altro pianeta, come Giove, oppure sulla superficie della Luna, del Sole, di altre masse, di altri corpi celesti, diciamo, allora cambia il valore del campo di gravità superficiale. Per esempio, la gravità sulla Luna è circa 6 volte di meno, quindi un sesto. E quindi, se devo calcolare il mio peso sulla Luna, devo utilizzare sempre questa formula. La mia massa non cambia. Ricordiamo, infatti, che la massa non cambia mai. In ogni luogo dell'universo è sempre quella. La mia massa, diciamo, magari, che è 50 kg, e quella è sulla Luna, su Giove, lontano da qualsiasi pianeta, su una stella, è sempre 50 kg. Perché ricordiamo che la massa non è il peso. La massa è quanto è difficile modificare la velocità di un oggetto. Quindi, è difficile modificare la mia velocità allo stesso modo se io sto sulla Terra, sulla Luna, sul Sole, o nello spazio vuoto, distante da qualunque corpo celeste. Quindi, la mia massa non cambia, è sempre quella, in ogni luogo dell'universo. Il mio peso cambia, perché il mio peso è la forza di gravità con cui vengo attratto dal pianeta. Se sto sulla Terra, la forza di gravità su di me è questa, ma se io sto sulla Luna, la forza di gravità su di me è 6 volte minore. Perché? Non perché sia cambiata la mia massa, ma perché è cambiato il campo di gravità sulla superficie della Luna, è 6 volte inferiore. E quindi, peserò 6 volte di meno. Quindi, un sesto peserò. Perciò, in conclusione, calcolare la forza peso, che dobbiamo fare? Massa, che non cambia mai per l'oggetto, ovunque si trovi, per il campo di gravità locale, che cambia, perché dipende dal luogo in cui mi trovo il campo di gravità. Per esempio, sulla Terra, se salgo in alto, la gravità diventa minore. Ora torniamo sulla superficie terrestre, 9,8 o 981 newton al chilo, e riprendiamo questo oggetto, una persona, da 50 chili. Siccome è scomodo a volte utilizzare i newton, anche se è l'unità di misura del sistema internazionale, di solito si utilizza un'altra unità di misura, pratica, che si chiama chilogrammo peso, che non va confuso con il chilogrammo, perché il chilogrammo è una unità di misura di massa, il chilogrammo peso è una unità di misura di forza, quindi le forze si possono esprimere in due unità di misura, newton e chilogrammi peso. Un newton non è uguale a un chilogrammo peso. Il chilogrammo peso è stato inventato proprio per non fare questo calcolo, quindi per dire qual è la massa della persona, 50 chili, bene, allora il suo peso è 50 chilogrammi peso, cioè è stato inventato in modo che il peso di un oggetto sia numericamente uguale alla sua massa, numericamente, cioè 50-50, anche se l'unità di misura è diversa, chilogrammo, chilogrammo peso. Per capire come si fa l'equivalenza tra newton e chilogrammo peso, che sono entrambe unità di misura diverse, ma sempre delle forze, allora per fare questa equivalenza prendiamo un oggetto da un chilo. Quanto pesa in newton? Un chilo per 9,8 newton al chilo fa 9,8 newton. Quanto pesa invece in chilogrammi peso? E questo è ancora più semplice, perché numericamente è uguale, pesa un chilogrammo peso. Perciò un chilogrammo peso corrisponde a 9,8 newton, è questa l'equivalenza. Quindi un chilogrammo peso non è uguale a un newton, è quasi 10 newton, è quasi 10 volte più grande. Un chilogrammo peso è 9,8 o 9,81 newton. Infine c'è l'altro esercizio al contrario, cioè invece di dare la massa e trovare la forza di gravità con cui quella massa è attratta dalla Terra o dalla Luna o dal pianeta, si fa il procedimento contrario, cioè si sa quant'è il peso di un oggetto, cioè la forza di gravità che lo attrae, e si vuole ricavare la massa. Per esempio, qual è la massa di un oggetto che pesa un newton? Noi sappiamo che il peso è la forza di gravità, si calcola mg, quindi mg è un newton. Ma devo ricavare m, formula inversa, un newton è diviso g, il campo di gravità locale, se stiamo sulla Terra, sulla superficie della Terra, vale questo valore qua, e quindi la massa è 0,102 kg, circa un etto, un decimo di chilo, quindi circa un etto. Quindi qual è quell'oggetto che pesa, cioè la cui forza peso è un newton? È circa un etto, un decimo di chilogrammo. Grazie.